Simone Ferretti, hai vinto la Notte degli Asi 2012, sei arrivato terzo alla prima tappa del WPT di GD Poker 2012, eccezionale. Sì, è un'annata piuttosto positiva, speriamo di continuare su questo trend. Adesso purtroppo sono uscito dal main event, però sono al final table del side event, siamo rimasti in sette, sono ship leader, spero di poter fare l'intervista poi dopo con notizie positive. Che tavolo è? È un tavolo che sembrerebbe abbastanza abbordabile, sono molto passivi, sto spingendo un po', vediamo se riusciamo a portare a casa questo primo posto che sarebbe buonissimo sia per la moneta che per la classifica del tour. Vai! Grazie.